buongiorno buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità che il progetto magnet mi ha dato mi ha offerto di parlare dei casi di eccellenza nell'utilizzo dei social network fini turistici e promozionali nell'ambito turistico culturale ecco personalmente per la mia esperienza professionale mi occupo di comunicazione integrata e lo faccio anche in ambito didattico nelle università link campus di roma nell'università degli studi della basilicata e ciò di cui parliamo oggi è un è un ambito estremamente importante della comunicazione perché come sappiamo da qualche anno quella della comunicazione social è una branca fondamentale alla allo sviluppo delle connessioni e della condivisione dei contenuti turistici e culturali apro questa mia breve conversazione proprio parlando di quella che è l'abilità comunicativa perché forse questo è un aspetto che talvolta si si dà per scontato ma in realtà è l'abilità comunicativa rappresenta come ho scritto un elemento strategico fondamentale per raggiungere in maniera mirata e diretta il pubblico ma questo riguarda tanto i progetti culturali le istituzioni quanto anche le persone l'essere umano in senso stretto noi viviamo in quanto siamo persone che si relazionano agli altri altrimenti probabilmente la nostra funzione cesserebbe di aver senso quindi in questo il la comunicazione che riguarda i progetti che riguarda i beni culturali è naturalmente strettamente connessa a questa abilità comunicativa che funzionale a dialogare con tutti i visitatori gli utenti ma anche a dialogare con le istituzioni l'opinione pubblica fondamentalmente avere attenzione no avere il consenso delle comunità locali ecco in definitiva come scrivo si tratta di una componente essenziale dell'identità stessa del bene o della destinazione turistica che attraverso l'azione comunicativa afferma di fatto la sua identità e il suo valore di relazione ecco questo è un aspetto molto importante soprattutto occupandoci di beni culturali e di cultura del turismo perché per molti anni si è pensato soprattutto nell'allestimento museale e mi riferisco in particolare proprio all'archeologia che ha un po sofferto di questo approccio si è pensato più a raccontare il patrimonio archeologico è una chiave strettamente scientifica che certamente è corretto però non sempre invece in chiave divulgativa e questo ha se vogliamo creato una sorta di barriera fra l'utente e i beni da fruire perché non sempre il racconto di questi beni era orientato alla divulgazione culturale che invece come sappiamo è una missione prioritaria di un museo di un'istituzione culturale cioè quella di parlare ad un pubblico quanto più vasto possibile naturalmente oggi i social network in questa direttrice si collocano perfettamente tutto sommato la parola stessa lo dice i social network nascono per creare socialità per creare rete e se inizialmente questa questa funzione era prettamente relegata ad azioni di relazione sociale pura e semplice nel corso dello sviluppo di queste piattaforme che lo ricordiamo entrano in gioco a partire dal nuovo millennio precedentemente non c'erano reti social nel senso stretto ecco da quel momento via via anche la comunicazione di contenuti culturali e turistici ha cercato sempre più di avvicinarsi a questo mondo social per creare una rete di seguaci una rete di pubblico che potesse anche attraverso questi canali seguire i con e conoscere i contenuti museali o di un progetto culturale è chiaro che avvicinandosi ai social come facile comprendere va a mutare completamente anche quell'idea di cui abbiamo parlato poco fa di una comunicazione per specialisti che invece diventa posso dire dal mio punto di vista finalmente una comunicazione per tutti e sono tante lo sappiamo oggi le istituzioni culturali che che hanno implementato i canali di comunicazione social proprio partendo da questa base concettuale che anche un'esigenza i maggiori canali utilizzati sono facebook instagram youtube per quello che riguarda soprattutto i contenuti video pinterest ma più di recente tik tok che è una piattaforma che si rivolge ad un target molto giovane ma che di fatto è riuscita proprio per la sua per pervicacità per la capacità di entrare in quel target specifico ad avvicinare ai musei anche quelle fasce di pubblico che purtroppo dobbiamo dirlo se non costretti tra virgolette dalle gite scolastiche ad entrare nei musei o dalle visite didattiche ad entrare nei musei se ne tenevano alla lontana e invece ed è un caso quello che esamineremo tra poco quello del museo degli uffizi di firenze grazie anche ad un uso consapevole di questo canale social proprio quelle fasce d'età giovanissime cioè dall'adolescenza in poi che non erano avvicinabili a questo tipo di contenitori culturali sono state invece coinvolte in questa slide ho riassunto brevemente quelli che sono i dati della presenza social dei musei italiani solo per avere un minimo di riferimento i numeri non li commento perché potete guardarli da soli e mi riferisco alla prima parte quella degli strumenti tecnologici sulla sinistra della slide e come vedete il numero medio di post sugli account social dei musei italiani è cresciuto progressivamente questi sono dati che naturalmente si riferiscono ancora al 2020 come sapete poi i dati vanno elaborati quindi arrivano insomma con un po di distanza però posso dire per aver visto già alcune proiezioni che sono dati confermati anche per l'anno successivo e quindi vediamo come l'utilizzo dei social è cresciuto in maniera esponenziale e per questo vi propongo questa slide proprio nell'avvio del lockdown se notate cioè fra marzo febbraio marzo aprile 2020 come vedete c'è stato un incremento formidabile di comunicazione sui canali social da parte dei musei italiani guardate in particolare il dato di marzo aprile 2020 vedete in particolare twitter che come sapete un canale social di comunicazione breve ma quindi immediato guardate come è cresciuta la comunicazione proprio in quei due mesi e poi vedremo a seguire un esempio che riguarda proprio quel periodo ma parallelamente se guardiamo lo schema di destra vediamo che poi questa crescita di interesse per i canali social non è l'unico ambito della comunicazione digitale che interessa il le aree museali o i siti archeologici perché in realtà va di pari passo con l'interesse complessivo per le nuove tecnologie applicate alla fruizione dei contenuti culturali in effetti come vedete cresce l'applicazione e l'interesse per tutte le nuove forme tecnologiche della comunicazione digitale in particolare guardate come è cresciuto negli ultimi tempi l'uso per esempio di realtà virtuale o di videogiochi o addirittura di chat bot come sapete il chat bot i chat bot sono quei software che emulano in qualche modo la comunicazione interpersonale alexa è per esempio uno dei chat bot che più conosciamo in questo momento e che vedremo è utilizzato da un'importante istituzione museale italiana e quindi vedete come anche il il gaming per esempio entra in gioco in questo sistema di innovazione della comunicazione digitale dei beni culturali è chiaro che rivolgendosi a queste nuove forme della comunicazione torna vivo il concetto di cui abbiamo parlato precedentemente tutto va nella direzione di un maggiore coinvolgimento del pubblico per fasce di target quindi target più ampi possibili che attraverso le nuove modalità della fruizione riescono a coinvolgere appunto un pubblico sempre più vasto andiamo avanti e parliamo della nostra prima buona pratica quella nota notissima direi a chi ha avvicinato un po l'argomento di cui parliamo oggi c'è quello dei della dei social per i beni culturali è quello del museo degli uffizi di firenze è un esempio estremamente importante per diversi ordini di motivi il primo è quello che riguarda la capacità ingegneristica di organizzazione del museo che è un aspetto estremamente importante cioè il direttore eike smith nel 2015 crea una struttura all'interno del museo che si occupa proprio di strategia digitale a 360 gradi in questa strategia digitale entra naturalmente a pieno diritto anche i social e la comunicazione social quindi pensate un'operazione iniziata molti anni prima che arriva a produrre dei frutti sostanzialmente come è giusto che sia dei frutti fortemente tangibili qualche anno più tardi il museo degli uffizi che ha il suo boom proprio nel con l'avvio della fase di chiusura dei musei dovuti alla pandemia da covi 19 quindi torniamo alla primavera alla fine inverno inizio primavera del 2020 un periodo in cui raggiunge attraverso alcuni post ne vedremo un esempio e uno è questo che proponiamo sulla destra cioè il primo di grande successo che è quello che propone il come vedete il mito di medusa attraverso una delle statue uno dei monumenti il perseo di cellini più rappresentativo della città di firenze che propone in quel momento una comunicazione social orientata a trasferire i contenuti il messaggio di un bene culturale di una scultura così importante nel contemporaneo parlando di quella che del modo in cui perseo affronta la paura e quindi trasformando quel messaggio simbolico in un messaggio invece fortemente incisivo in un momento specifico della nostra storia che è quella della grande paura per il covid e quindi un un post pubblicato il primo marzo del 2020 riesce ad avere oltre 30 mila like che a dirsi così rispetto a settori dove questi like si raggiungono con molto meno può sembrare anche un risultato non straordinario ma invece per quel che riguarda questo settore si tratta di un risultato effettivamente fuori dall'ordinario quindi va preso davvero in seria considerazione nel 2021 addirittura dopo circa un anno di questa attività intensiva sui social gli uffici sorpassano addirittura il colosseo e diventano il luogo d'arte più visitato d'italia ecco questa è una cosa importantissima ma mi piace sottolineare come questa centralità derivi soprattutto da un orientamento strategico della direzione del museo e infatti è il direttore eike smith che precisa quanto sia fondamentale che l'attività digitale precisare che l'attività digitale non danneggia ma anzi alimenta fortemente la ripresa dei musei la ripresa dei visitatori nei musei stiamo parlando del 2020 del giugno 2020 lui dice in questo fine settimana abbiamo registrato una crescita del 24 per cento con duemila persone in più rispetto al primo weekend dopo la riapertura perché ne parla in quel momento e ne parla in questi termini perché per chi ha seguito un po la vicenda degli uffizi c'è stata anche un po' di polemica rispetto all'opportunità che una importante influencer come chiara ferragni si occupa avesse insomma si occupasse anche di del museo degli uffizi e che quindi di comunicare non più moda e e altro ma anche contenuti culturali una polemica che il direttore ha voluto spegnere proprio raccontando come poi invece questa operazione culturale avesse sortito un effetto davvero importante per il museo e lo spiegano nel 2020 così per la prima volta i ragazzi sotto i venticinque anni hanno rappresentato più di un terzo del totale dei visitatori alla galleria degli uffizi risultato davvero importantissimo pari a più 34,6 per cento pensate questo continuano equivale a una crescita della fascia pari a più 24,9 per cento rispetto all'anno precedente quindi guardate come poi i dati continuano ad illustrare come per quella fascia d'età l'età delle delle generazioni più giovani sia stato davvero importante attivare queste forme di divulgazione di contenuti sui social network anche utilizzando testimonial e influencer d'eccezione perché quando queste operazioni sono fatte con gusto e per una giusta causa non devono assolutamente essere criminalizzate tra virgolette ecco va precisato che il picco è stato raggiunto nelle due settimane dopo il 17 luglio 2020 data della visita dichiara ferragni agli uffizi ma nello stesso tempo perché questa non è l'unica testimonial d'eccezione di quella fase agli uffizi arriva anche martina socrate una giovanissima tiktoker che visita gli uffizi il 12 di giugno ecco sono questi due fatti estremamente importanti che aprono questo canale di comunicazione di uno dei più delle più importanti istituzioni museali del mondo verso una fascia di pubblico che precedentemente si faceva fatica a raggiungere cioè quella dei giovanissimi a partire da persone già nate nel nuovo millennio non parliamo soltanto dei cosiddetti millennial o della generazione z ma addirittura di ragazzi ancora più giovani ma il fatto importante che questi ragazzi non hanno solo condiviso e ripostato dei contenuti presenti sui canali social ma hanno anche fisicamente visitato il museo e questo penso fosse risultato auspicabile e un risultato davvero importante naturalmente parallelamente il museo ha anche incrementato come abbiamo visto nelle slide precedenti la dotazione di software e tecnologie digitali per una comunicazione sempre più immersiva e dialogante con il pubblico cosa che incontra molto da vicino quelle che sono proprio le esigenze delle nuove generazioni cioè di vivere esperienze quanto più immersive possibili francesca sborgi che è la coordinatrice dell'area dell'area social del degli uffizi racconta come è organizzata questa comunicazione digitale che penso questo racconto possa essere molto importante per orientare l'organizzazione complessiva di della comunicazione social nell'ambito di una istituzione museale e vediamo come lo descrive la nostra missione istituzionale è diffondere al maggior pubblico possibile la conoscenza delle collezioni e delle attività culturali degli uffizi e secondo un palinsesto di concerto con smith il direttore e le sue linee strategiche a breve e lungo termine il sito è l'aggregatore il nostro biglietto da visita che raccoglie i contenuti per tutto il pubblico quindi ciascun social li riprende differenziandole per fasce diverse di fruitori mi soffermo su questo concetto del website come aggregatore di contenuti che poi vengono esplosi nelle diverse forme nelle diverse direzioni della comunicazione digitale perché questo è un aspetto estremamente importante ci deve essere un luogo e questo è senz'altro un portale web in cui l'identità del del bene del progetto è completamente narrata raccontata a 360 gradi questo è estremamente importante perché quello il cuore della comunicazione che non dimentichiamo cico e website il luogo dove tendenzialmente noi cerchiamo di aprire una finestra in un luogo e cerchiamo di acquisire tutte le informazioni utili una piattaforma che naturalmente consente di dare molte più informazioni rispetto a quelli che in maniera strutturata rispetto a quelli che possono essere i canali social questo è un aspetto estremamente importante nella foto vedete appunto chi era ferragni e il direttore del museo degli uffizi ecco qui c'è ancora qualche altro qualche altra precisazione su come è organizzato il team dei social degli uffizi che vedete ritratto in questa foto in alto a destra quindi come vedete si tratta di una vera di un vero e proprio team di una vera e propria redazione questo è importante precisarlo perché sovente si pensa che l'attività social possa essere in qualche modo derogata a volontari e a persone che possano farlo in maniera diciamo spontanea ma non è così come tutte le cose il lavoro della comunicazione richiede scientificità competenze e organizzate e ben strutturate ed è sempre la sborgi a precisare come questo lavoro va organizzato e infatti ciò che è importante dire è che sostanzialmente vi è un continuo aggiornamento sui trend che cambiano di settimana in settimana e quindi anche i contenuti in funzione di questo aggiornamento dei trend devono essere aggiornati e lei dice noi facciamo due riunioni con smith a settimana questo per dire come poi la strategia della direzione deve andare parallelamente a quella che a quello che è il lavoro della comunicazione social non solo ma anche un coordinamento che guardi a tutti gli ambiti museali e quindi fin anche ai professionisti che lavorano nel museo per il restauro per la sistematizzazione delle opere e quant'altro e per parlare degli uffizi sui social dice la sborgi bisogna conoscere in modo approfondito la storia le opere il team del dipartimento strategie digitali che si avvale anche di stagisti provenienti dalle università e composto da laureati in materie umanistiche sostiene che hanno studiato l'identità dell'istituzione per cui lavorano e precisa e sono fortemente d'accordo background imprescindibile che viene a cui viene data solitamente secondaria importanza anche nei corsi di social media management ecco questa è una cosa che sottolineerei cioè bisogna studiare bene l'identità dell'istituzione che si intende comunicare questo è fondamentale per avere l'approccio giusto e lei dice noi dello staff ci rapportiamo a tutti dai tecnici ai manutentori alle attività di a chi si occupa delle attività didattiche ai restauratori e fino anche a chi provvede ai all'inclusione e all'accessibilità quindi ecco questa è una cosa estremamente importante cioè avere una visione a trecentosessanta gradi di ciò che che si vuole raccontare soprattutto delle persone che ne rappresentano il cuore adesso vediamo brevemente come invece si rapportano generalmente gli italiani ai social media ecco analizziamo brevemente alcuni dati che ci dicono che sono circa 37 milioni gli italiani che utilizzano questi strumenti di comunicazione informazione cioè ben oltre 60 per cento dell'intera popolazione di questi 37 milioni 9 milioni usano i social per entrare in contatto con musei gallerie d'arte siti archeologici dei dati dai dati emerge questo è un aspetto importante che la generazione z cioè i nati tra il 97 e 2012 è sempre più incollata allo schermo ma questo diciamo non ce lo doveva dire l'istat è cosa che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni e quindi vediamo come talvolta anche in presenza di persone che potrebbero ragazzi giovani che potrebbero dirsi le cose devi su accade che le comunicano attraverso i social quindi questa ormai un'attività di cui siamo consapevoli ma diciamo che un'attitudine che non dobbiamo attribuire soltanto ai giovanissimi perché noi abbiamo esperienza anche di persone della nostra generazione che hanno acquisito questi comportamenti digitali in senso estremo bene adesso la scelta di essere presente sul web riguarda quasi la metà delle istituzioni museali cioè oggi quasi la metà delle istituzioni museali ha un portale web quando dico istituzioni museali mi riferisco anche in generale a chi invece ha aree archeologiche in gestione o comunque beni culturali in generale vediamo però come questa presenza lo abbiamo visto anche nelle slide che abbiamo commentato in precedenza questa presenza sul web quindi questa forma di comunicazione digitale corrisponda anche a nuove forme di comunicazione e di fruizione adottate all'interno di questi musei o aree archeologiche quindi quanti sono laboratori attività didattiche online il 40 il 48 per cento delle istituzioni museali ne fa utilizzo tour e visite guidate il 45 per cento e poi c'è la parte delle collezioni digitalizzate che crescono sempre di più cosa vuol dire che via via e questo riguarda molto da vicino anche il progetto magnet via via si procede ad una digitalizzazione dei beni culturali per consentirne una maggiore fruizione e utilizzo sui canali digitali della comunicazione ma anche se vogliamo un migliore utilizzo sul piano scientifico perché come sapete una ricostruzione in 3d di un oggetto di un bene culturale ne consente anche il suo studio e il suo approfondimento da un punto di vista scientifico e anche una migliore catalogazione ecco il 13 per cento anche di queste istituzioni museali si è cimentato anche nel podcast che cosa vuol dire che sono stati creati anche dei contenuti ascoltabili e visibili in rete in momenti diversi e poi ne vedremo alcuni esempi però ritenuto importante sottolineare una cosa che mi sembra ci debba riguardare un po tutti soprattutto gli addetti ai lavori che ciò nonostante sono ancora troppo poche le istituzioni che si sono dotate di un vero e proprio piano strategico che comprenda anche l'innovazione digitale pensate sono solo il 24 per cento cioè meno di uno su quattro questo dato estremamente importante perché vuol dire molte cose la prima considerazione che si può fare e che si evince da questo dato è che probabilmente non sia ancora dato su data sufficiente importanza a questo aspetto dell'innovazione digitale che come dicevo riguarda non solo i canali di comunicazione ma anche lo dicevamo poco fa tutto ciò che è attinente alla didattica della conoscenza e quindi sono due cose che vanno di pari passo se parliamo solo del 24 per cento vuol dire che c'è più di un 75 per cento delle nostre istituzioni museali che ancora non ha compreso l'importanza di questo ambito della comunicazione e della divulgazione in realtà preciso sarebbe più corretto dire che un'istituzione culturale dovrebbe dotarsi di una digital strategy che coinvolga che non coinvolga esclusivamente i canali social ma anche il sito web il blog newsletter il podcast in gli strumenti digitali che naturalmente permettono di creare una comunicazione integrata che riguarda appunto la comunicazione esterna ma anche come dicevamo tutto quello che dico riguarda e attiene alla didattica e alla fruizione museale ma questo sempre per creare un rapporto diretto e continuo con i visitatori un rapporto anche monitorato che è cosa che i social network naturalmente consentono di tenere ecco ho cercato di riassumere in questa slide un po le motivazioni per le quali un museo ma ripeto quando parliamo di museo parliamo di qualunque istituzione museale o anche di qualunque istituzione culturale perché un museo deve investire nei social media ecco qui ho cercato di riassumere i contenuti principali i social media sono uno strumento fondamentale per creare o rafforzare l'immagine del museo e per svilupparne il branding quando diciamo branding diciamo un po l'entità no l'identità che non è un'identità soltanto visiva un'identità virtuale ma è un'identità in senso stretto attraverso l'immagine noi offriamo offriamo esattamente lo specchio di ciò che siamo e questo vale anche per l'istituzione museale coinvolgere il pubblico e creare conversazioni questi gli obiettivi primari di ogni strategia social questo è chiaro purtroppo lo sappiamo anche le nostre spese nel senso che per creare conversazioni talvolta si utilizza anche il falso si utilizzano anche gli scoop non sempre documentati e su questo bisogna sempre prestare attenzione perché non basta per voler creare comunicazione dire anche cose non vere o false partendo dal principio che va bene purché se ne parli quindi ecco sappiamo che gli algoritmi dei canali social privilegiano le cattive notizie e le privilegiano perché sono quelle che ottengono maggiori risultati in termini di audience e condivisione questo è un altro elemento che andrà assolutamente affrontato in senso lato da da una società che vuole avere un approccio corretto alla comunicazione social sicuramente si dovrà fare una lunga e attenta riflessione su questo ma proseguiamo nel guardare il perché può essere utile investire nei social tramite un'accurata e completa strategia di social media marketing è possibile creare uno storytelling del museo che interessi il pubblico e lo coinvolga accrescendo il senso di appartenenza alla community ecco questo è un aspetto molto importante perché è un dato sociale ineludibile cioè quello di creare comunità intorno dei contenuti di creare una comunità che condivide e condividendo crea gruppo crea senso di appartenenza crea seguito il visual storytelling preciso è un elemento essenziale nella costruzione di un'identità social questo riguarda naturalmente un museo istituzione culturale ma riguarda tutti noi anche una persona nel raccontarsi è importante che lo faccia nella maniera più efficace e corretta possibile grazie ai social media ancora è possibile diversificare la propria presenza sul web adattando quello che tecnicamente si chiama il tono di voce e di contenuti ai diversi canali che vanno scelti in base ai target questo è un aspetto molto importante la diversificazione dei canali non comunicheremo lo stesso messaggio in ugual modo su facebook su twitter e su tiktok faccio tre esempi dei più noti perché è evidente che quel messaggio raggiunge target diversi e quindi richiede modali modalità diverse di comunicazione toni di voce diversi quando si dice toni di voce si intende proprio questo i social media sono utili anche per mettere in contatto i professionisti che lavorano all'interno della struttura con i visitatori favorendo un dialogo costruttivo ecco questo è è un è un elemento molto interessante il dietro le quinte così detto quello che svela alcune alcune parti di un museo agli occhi del pubblico che agli occhi del pubblico sarebbero diversamente non visibili o visitabili le fasi di lavorazione le fasi di un allestimento le fasi di un restauro ecco sono tutti elementi estremamente importanti sono cose per esempio che nel progetto Magnet sono state prese in considerazione proprio per dare spinta e racconti che possono essere coinvolgenti per il pubblico in questo caso riferiti proprio all'area della Magna Grecia della Basilicata poi i social media sono anche indispensabili per le ricerche dirette come i sondaggi relativi a capire anche l'interesse o le negatività i punti di forza di fragilità i suggerimenti sono tutte cose che i social media aiutano assolutamente a mettere in atto e quindi consentendo quello che si definisce una buona customer service cioè una capacità di dare risposte adeguate a quelle che possono essere le esigenze del pubblico questo è un altro aspetto molto importante infine social media, applicazioni, realtà aumentata e altre soluzioni tecnologiche per la fruizione possono essere funzionali a creare percorsi guidati e interattivi questo è un altro aspetto rilevante adesso volevo mostrarvi alcuni esempi di musei reali e virtuali che si sono dotati appunto di tecnologie digitali per la fruizione innovative tecnologie digitali per la fruizione allo stesso tempo che hanno posto i social media al centro della loro attività di comunicazione ecco, la responsabile dell'osservatorio innovazione digitale nei beni e attività culturali nel parlare appunto di come si sta evolvendo questo settore della comunicazione digitale in ambito culturale dice che i canali digitali sono passati da essere prevalentemente un mezzo di promozione e informazione a vero e proprio strumento di diffusione della conoscenza questo è un po' l'assunto paradigmatico della nostra conversazione di oggi come vedete dai dati che riporta il 95% dei musei è un sito web e l'83% un account ufficiale sui social ecco, questi sono dati importanti e qui ho riportato anche l'osservazione di un giornalista che è un giornalista che offre opinioni importanti in questo settore del Corriere della Sera che dice la comunicazione dei musei è cambiata dal boom su TikTok degli uffizi ai podcast della triennale non è più soltanto una questione di click, di selfie e di like i canali digitali sono diventati un vero e proprio strumento di diffusione della conoscenza come vedete conferma quello che aveva dichiarato la responsabile scientifica dell'osservatorio innovazione ma vediamo adesso alcune delle principali esperienze ne ho riportate davvero solo alcuni esempi poi si potrebbe ampliare ma è per dare un'idea di massima di quelle che sono alcune delle esperienze più interessanti intanto la Museum Week che è effettivamente un evento esclusivamente digitale dedicato ai musei di tutto il mondo questa iniziativa che si tiene solitamente a giugno di ogni anno è un'opportunità per tutti gli appassionati di questo settore che grazie ad alcuni hashtag dedicati possono a seconda delle curiosità di ciascuno interagire con gli addetti ai lavori di tantissimi musei questo è un evento esclusivamente digitale e veniamo ad Alexa raccontami il MART il MART che è il museo di Rovereto rilancia il proprio impegno nella ricerca e nell'innovazione con un progetto assolutamente digitale uno storytelling disponibile su Alexa quindi in questo caso come vedete ci si spinge proprio avanti su un chatbot così noto per aprirsi ad una comunicazione ancora più pervasiva ancora più allargata un altro dei musei che ha spinto molto non solo sui canali social ma anche sull'innovazione dei percorsi interni è il museo egizio che ha creato un vero e proprio virtual tour qui poi se vi fa piacere vi consiglio di andare sul sito perché il virtual tour è possibile sul sito e quindi è facilmente navigabile da tutti è possibile visitare attraverso i dispositivi elettronici una sala dedicata all'antico villaggio di Dere el Medina ad esempio è la sala che ospita il corredo funerario di Ka Emerit ecco, queste sono piccole parti di un progetto estremamente complesso e importante che il museo egizio porta avanti da tempo che è quello proprio di allargare quanto più possibile la sua, ampliare quanto più possibile la sua capacità di integrazione delle nuove tecnologie per la comunicazione e la fruizione dei contenuti museali è un museo bellissimo che consiglio a tutti se è possibile di visitare ancora il Maxi di Roma sta per realizzare un progetto molto importante che riguarda le tecnologie ma di fatto riguarda anche la ristrutturazione complessiva alla creazione di un'area proprio dedicato al Maxi Technology quindi pensate quanta importanza questa istituzione museale sta dedicando all'upgrade digitale del museo ancora ne abbiamo parlato poco fa ascoltare la triennale è questo progetto di podcast della triennale di Milano in cui è possibile ascoltare tanti approfondimenti in formato audio e questo insomma è una cosa abbastanza interessante ripeto questi esempi di cui parliamo fanno sempre riferimento a istituzioni museali che sono molto presenti nei social e che prevedono questa integrazione tra i contenuti digitali per la fruizione e la presenza sui social network infine la realtà aumentata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano anche qui è stata creata addirittura Train Stories un'app in realtà aumentata che è stata una delle prime esperienze in questo ambito nel nostro paese e quindi diciamo un'altra istituzione museale che propone dei contenuti estremamente interessanti questa app riguarda la valigia delle Indie il convoglio ferroviario che collegava settimanalmente Londra a Bombay ed attraversava anche parte della Francia e dell'Italia nell'Ottocento parliamo di un'istituzione museale che è stata la prima ad avere un sito web in Italia già nel 97 quindi parliamo di un museo che è stato sempre molto attento del resto non sarebbe stato davvero incredibile che il Museo della Scienza in questo senso non fosse all'avanguardia dopo aver visto prevalentemente esperienze più strettamente culturali quindi volevo aprire una finestra anche su quello che è un po' il rapporto tra i social e il turismo culturale e quindi mostrarvi poi anche un altro caso concreto di successo che riguarda proprio invece una destinazione più prettamente turistica ma che ha fatto di questa destinazione che era nota per altre cose invece un luogo di attrazione anche culturale e quindi mi sembrava un bel esempio da portare in questa nostra conversazione di oggi intanto vediamo come si orientano i turisti i cosiddetti abitanti culturali nel programmare un proprio viaggio intanto scopriamo che quasi l'ottanta per cento delle persone ormai organizza il suo viaggio partendo dai social network o dal web il 90 per cento dei cosiddetti millennial i millennial sono diciamo le persone nate fra il 1981 e la metà degli anni 90 quindi diciamo una fascia di pubblico che va circa dai 25 ai 40 anni che è un po' quella che si muove più di tutte orienta le proprie vacanze seguendo i suggerimenti postati dai coetanei sui canali social quindi oltre il 97 per cento di queste millennial condivide foto e video di viaggio creando una rete influente di contenuti veri e propri storytelling e qui torna il ragionamento che abbiamo fatto poco fa per le istituzioni museali che raccontano giorno per giorno esperienze ed emozioni la condivisione di queste informazioni ha una rilevanza determinante sulle scelte delle mete turistiche su queste scelte scrivo per precisare uno dei concetti importanti di qualunque destinazione turistica incide la reputazione una percentuale di turisti compresi tra il 30 e il 40 per cento riconosce di aver cambiato i propri programmi di viaggio dopo aver letto alcuni commenti negativi in rete questa è una questione che può sembrare apparentemente solo apparentemente importante per una destinazione turistica un hotel una spiaggia ma non è così perché se anche un museo ha un appeal positivo e quindi riesce ad intercettare un pubblico che poi divulga informazioni entusiastiche di un'esperienza ottiene ovviamente una reputazione positiva che è estremamente importante per accrescere l'influenza sul pubblico ecco la cosa importante è che naturalmente molta buona parte di questa sensazione positiva che l'utente, il pubblico, il visitatore, il turista può avere di un'esperienza è proprio la sua capacità di essere, come possiamo dire, multisensoriale di poter coinvolgere un po' tutti i sensi in un'esperienza importante indimenticabile un'esperienza che ci mette in gioco anche in prima persona che sia anche un'esperienza bella innovativa da raccontare in questa logica di mutuo scambio scrivo reale e virtuale mondo fisico e universo digitale concorrono senza soluzione di continuità nella creazione creazione di esperienze singolari immersive dialoganti capaci di attrarre un pubblico sempre più vasto attivo e interconnesso su questo tema molto si è discusso negli ultimi tempi anche tra gli esperti di musealizzazione perché è chiaro che anche un'ostentazione tecnologica può essere di cattivo gusto all'interno di un museo finalizzata solo a se stessa è chiaro che se invece le forme di comunicazione sono ben integrate ben bilanciate cioè la fruizione di un'opera viene adeguatamente consentita nel senso pieno del termine di una sua visione pura e semplice ma che ci possano essere poi degli approfondimenti o altre esperienze che diversamente solo con la vista dell'opera non si potrebbero compiere che arricchiscono quell'esperienza allora si può parlare di sicuramente di un dato positivo e fortemente attrattivo questo equilibrio è senz'altro tenere sempre in debita considerazione porto all'attenzione di chi ci segue due esempi di comunicazione di questi giorni proprio di questi giorni e riguardano l'una la Galleria Nazionale dell'Umbria l'altra è il British Museum allora la Galleria Nazionale dell'Umbria riapre il primo luglio 2022 e nel suo messaggio cosa dice la Galleria Nazionale dell'Umbria diretta da Marco Pierini ha riaperto al pubblico con un nuovo allestimento nuovi spazi e nuove metodologie di fruizione vedete come questo elemento entra subito nella comunicazione e proprio per spiegare che è accaduto qualcosa di nuovo che c'è qualcosa di nuovo e di fortemente attrattivo potrete da soli poi andare sul sito della Galleria Nazionale dell'Umbria per vedere come anche il portale web oggi è offerto in una nuova dimensione e quindi una dimensione comunicativa adeguata a questo messaggio addirittura è notizia di questa mattina Altan ha disegnato tutto una guida dedicata ai bambini del museo con gli occhi della Pimpa che è uno dei suoi personaggi creati già molti anni or sono e quindi come vedete le forme di comunicazione diventano diverse sempre indirizzate ai target che si vogliono raggiungere invece l'esperienza del tour della visita guidata alternativa al British Museum è anche molto interessante perché sostanzialmente per la prima volta viene proposta al pubblico una visita guidata di una storia senza filtri così la chiama la direzione del museo cioè la visita guidata in realtà aumentata che grazie ad Instagram narra la storia una storia alternativa cioè dando voce alle colonie che sono state private dei loro tesori culturali ecco vedete com'è poi l'innovazione tecnologica sembra consentire anche racconti e narrazioni che prima d'ora non erano mai state realizzate questo è un altro aspetto diciamo di ambito culturologico se vogliamo della fenomenologia degli stili molto interessante ma vediamo adesso cosa di cosa ha bisogno il turista cosiddetto 2.0 che poi quando si dice 2.0 diciamo si utilizza questa forma di comunicazione questa formula ma non sempre se ne comprende il significato in realtà tutto ciò che si serve di questo 2.0 fa un po' riferimento al web 2.0 ovvero ad un'evoluzione dei linguaggi di comunicazione del web e dei software che hanno condotto a una elaborazione di contenuti e a un'emissione in rete di contenuti anche da parte degli utenti cioè il web si è trasformato dal luogo di divulgazione di contenuti al luogo di costruzione di contenuti ecco quando si parla di 2.0 si fa riferimento a questo il turista 2.0 quindi ora sappiamo chi è è un turista che naturalmente vuole creare anche contenuti non solo fruirli che cosa si aspetta di vivere un'esperienza unica personalizzabile digitale e memorabile nello stesso tempo quindi la trasformazione digitale non ha solo cambiato diciamo il business turistico in senso stretto ma cioè consentendoci di prenotare attraverso i software di fare altre azioni di pagare di fare altre azioni di scegliere i nostri servizi ma ha anche trasformato il turista e le sue priori potremmo quindi parlare di un vero e proprio cambio di un vero e proprio di una vera e propria trasformazione quasi antropologica del turista e quindi il turismo digitale non è soltanto come dicevamo prenotazioni più semplici o condivisione di immagine ma rappresenta anche un approccio nuovo alle esperienze che si possono offrire ai turisti e alle capacità di raccontarle l'Hospitality Social Awards il premio italiano per le eccellenze dei social media marketing nel turismo un premio istituito nel 2012 da Teamwork premia ogni anno le migliori attività di social media marketing in questo ambito delle destinazioni turistiche negli ultimi quattro anni i progetti premiati sono stati Marche Tourism nel 2018 le Marche sono state la prima regione italiana ad investire moltissimo sulla strategia digitale della comunicazione poi abbiamo Val Susa Turismo in Piemonte Brescia Tourism nel 2020 e Visit Rimini nel 2021 questo è l'esempio che vi vorrei mostrare per un motivo molto importante che ho solo accennato all'inizio della mia conversazione cioè Rimini che è città nota per il turismo balneare per le attività ludiche per per l'intrattenimento per la parte spettacolare della città invece da un certo punto in poi a partire da un da un primo tentativo fatto già all'inizio degli anni 2000 ma poi fondamentalmente proprio a partire dal 2020 ha concentrato la sua attività di comunicazione ma anche la sua attività di place branding cioè di identità del luogo sull'aspetto culturale ed è per questo che ve ne voglio parlare seppur brevemente quindi la città attraverso questo claim visit Rimini si vuole presentare in una rinnovata identità e questo lo trovo estremamente interessante che intreccia una relazione naturale con tutto il bello che la circonda dalle colline ai borghi paesaggi storia arte creatività e tradizioni che meritano di essere scoperte e vissute magari in bicicletta partendo da una delle tante piste ciclabili della Bicipolitana ecco vedete come la città allarga il suo punto di vista e si rivolge a tutti quei temi che possono incrociare pubblici diversi e che possono in qualche modo consentire alla città di avere un'attrattività per 365 giorni che era questo l'obiettivo di una nuova di un nuovo riposizionamento della città tra le destinazioni turistiche perché Rimini va benissimo d'estate per via della sua straordinaria offerta integrata di servizi per le vacanze ma naturalmente voleva proporsi come una città capace di ospitare tutto l'anno con un'idea cioè che a Rimini trovi l'estate in ogni stagione vedete che i temi che la campagna abbraccia sono poi arte al primo posto vedete ancora prima che il mare perché il mare in qualche modo viene dato per acquisito poi il wellness food sport entroterra lifestyle ecco questo è un elemento su cui questa strategia di comunicazione ha spinto moltissimo ovvero l'esperienza umana che si può fare in un territorio dove la vicinanza dove la condivisione dove il fare le cose in armonia e con gioia sembra essere un carattere distintivo e poi tutto il press kit di questo importante progetto spinge moltissimo sull'aspetto dell'arte sulla parte monumentale sulla musealizzazione della città Rimini e città in cui l'arte romana ha una sua rilevante importanza e la storia romana ha una sua rilevante importanza ma è una storia che passa non solo dall'età imperiale al medioevo al rinascimento ma anche al contemporaneo perché arriva poi a uno dei suoi più illustri cittadini che è Federico Fellini nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita nel 2020 proprio in periodo di lockdown la città crea un museo dedicato crea aperto nel 2021 un museo dedicato alla figura di questo importante regista italiano ecco non solo ma mette in evidenza anche tutto il fermento creativo che la città può esprimere dal design alle arti alle arti performative in senso lato ecco questa è come vedete la comunicazione che adesso potete trovare in rete se volete di Rimini e il press kit di Rimini racconta per completare il viaggio nel nuovo rinascimento di Rimini e vedete come nell'utilizzare la parola rinascimento si fa naturalmente riferimento ad un periodo ad un'epoca storica precisa occorre percorrere corso da Augusto l'antico decumanus maximus fino al ponte di Tiberio al centro di un disegno urbano che ha valorizzato un'immensa area verde con la creazione di una singolare piazza sull'acqua ora punto imprescindibile di ritrovo dei Rimini percorsi ciclopedonali e luoghi perfetti per un picnic con i cestini preparati dai locali del vicino borgo San Giuliano con le sue casette colorate e i vicoli che raccontano il mondo di Fellini attraverso murales di artisti provenienti da ogni parte del mondo ho voluto proporvi questo messaggio perché mi sembra davvero molto esplicito e dichiarativo rispetto all'orientamento della comunicazione di questa città che ha ragione non solo per il numero di contatti raggiunti ha vinto il suo premio nel 2021 ma anche proprio per essere riuscita a trasformare completamente l'immagine che si aveva di questa città ecco questo che vedete è il primo post fatto in relazione a questa campagna di Visit Rimini e qui siamo in piena pandemia sostanzialmente eravamo proprio era il 31 marzo del 2020 e quindi vedete come la comunicazione in maniera molto intelligente racconta Castel Sismondo ti aspetto dal 1437 posso aspettarti ancora ecco vedete come il gioco siamo in periodo di lockdown non è possibile viaggiare ma io che devo comunicare la città e la devo comunicare in questa nuova chiave approfitto per creare un messaggio che possa essere fortemente che possa fortemente incuriosire il pubblico ecco vedete che da qui inizia un viaggio loro poi hanno avuto più di 3 milioni di visualizzazioni video 500.000 persone coinvolte ogni mese 300.000 reazioni e così via insomma naturalmente parliamo di una destinazione che ha già di per sé che è un bacino di interesse straordinario però questa azione di comunicazione ha sicuramente creato un interesse molto ma molto più forte e allargato ecco qui ci sono ancora i dati che sono proprio loro nel press kit a raccontare dice una community nata da zero che oggi conta più di 40.000 42.000 persone su facebook e 6.400 su instagram formata al 90% da turisti che ogni giorno lasciano commenti positivi sulla città confermando Rimini come destinazione turistica viva 365 giorni l'anno che era poi l'obiettivo della campagna ma non solo della campagna del complessivo progetto strategico di place branding ecco questo è come oggi si presenta il sito web della della città ho aperto una delle finestre cioè quella dei 365 click Rimini un anno di Rimini sui social perché qui si racconta proprio come poi il pubblico racconta la sua esperienza nella città abbiamo visto due esempi uno che riguarda il museo degli uffizi di Firenze e uno che riguarda la città di Rimini premiata nell'ambito di un concorso nazionale sulle migliori destinazioni turistiche in ambito social se ho ancora qualche minuto vi volevo presentare invece un'esperienza diversa ma che si realizza finalmente al sud perché mi faceva piacere anche parlare di un'esperienza che ci riguarda un po' più da vicino e che ha trovato molta forza proprio nella comunicazione social si tratta di un progetto che seguo personalmente e che si chiama Ciclovia Parchi Calabria apparentemente può essere quello della Ciclovia un ambito che ci può sembrare distante ma abbiamo visto come invece anche Rimini ha puntato molto sull'idea di una fruizione del paesaggio e dei beni culturali che fosse lenta proprio in mobilità slow attraverso la bicicletta quella delle Ciclovie sta diventando un fenomeno di portata straordinaria possiamo dirlo non so se vi è capitato di provare ad acquistare di recente un e-bike avrete notato che bisogna attendere del tempo adesso non è quasi più possibile averla in pronta consegna questo ci dice molto di come gli interessi si stiano orientando verso questo tipo di mobilità non solo ma di come viceversa i percorsi delle Ciclovie stiano sempre più raccontando la cultura che attraversano questo è un aspetto molto importante perché oggi le Ciclovie non sono più intese come luoghi dove fare sport o turismo in senso stretto turismo active in senso stretto ma sono infrastrutture attraverso le quali è possibile attivare una nuova forma di conoscenza dei luoghi che è una forma di conoscenza che molto piace alle nuove generazioni cioè quella di entrare in contatto stretto con il luogo è quella che oggi si definisce esperienza local entrare in contatto con il lifestyle con le persone con coloro che il luogo vivono interpretano raccontano ed è questa esperienza che piace moltissimo e nel 2021 la ciclovia dei parchi della calabria proprio in questo senso ha vinto un premio nazionale per la sua attività di comunicazione l'Italia Green Road Award a pari merito con Trento proprio per per la sua capacità di raccontare la ciclovia e non solo come percorso appunto per ciclisti appassionati di questo sport ma soprattutto per turisti appassionati di natura paesaggio e cultura un'attività social quella della ciclovia che naturalmente ha previsto un piano di comunicazione strategico complessivo che ha riguardato la comunicazione web ma tanti altri ambiti che inizia nel febbraio del 2021 poi come vedete sono state fatte tante attività nell'arco di un anno che hanno portato adesso vi mostro questa ultima slide su cui concludo che hanno portato a dati che vi mostriamo in questa slide cioè in un anno il portale web ha avuto oltre 70.000 visualizzazioni e più di 15.000 utenti naturalmente stiamo parlando di una destinazione specifica quindi stiamo parlando di qualcosa che non può avere la rilevanza di luoghi che hanno già una loro attrattività pensate che questa è una destinazione che nasce partendo da zero cioè non esisteva ed è stata creata con l'obiettivo di riuscire a farsi conoscere quanto più possibile nel panorama internazionale quindi nel giro di un anno ha avuto oltre 400.000 visualizzazioni fra Facebook e Instagram con oltre 6.000 follower un post fra quelli più visti ha raggiunto i 160.000 utenti su YouTube poi ci sono anche degli utenti che superano ormai raggiungono quasi i 10.000 lo abbiamo controllato questa mattina con questa piccola esperienza che ci riguarda più da vicino mi piace concludere perché voglio soprattutto rappresentare un aspetto estremamente importante della comunicazione digitale che è quello che ho ribadito più volte ovvero che dietro qualunque progetto di comunicazione digitale ci deve essere una strategia e che se c'è una strategia e un'organizzazione ingegneristica del lavoro di redazione i progetti funzionano sul piano comunicativo e i social e il web danno una spinta straordinaria se si ha capacità comunicative bene io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato le slide credo saranno messe a disposizione e adesso chiedo se ci sono domande o se ci sono curiosità alle quali posso rispondere vi ricordo che è possibile utilizzare la chat per le domande anche quelle in greco poi saranno tradotte quindi scrivete pure un po' va bene pare che non ci siano domande la faccio io una a questo punto mi interessava sapere su questo ultimo progetto chi erano i committenti come è partita la cosa a chi è stato rivolto il lavoro se i comuni oppure degli enti oppure è stata una cosa partita da un altro abito è una bella domanda perché quella della ciclovia dei parchi della Calabria è una bella esperienza anche da questo punto di vista nel senso che il progetto è della regione Calabria ma coinvolge i quattro parchi più importanti della regione che sono interessati dal percorso della ciclovia che sono il parco nazionale del Pollino il parco nazionale della Sila il parco regionale delle Serre e il parco nazionale della Sprumonte quindi è in realtà un progetto che interessa queste cinque istituzioni che hanno lavorato di concerto per la realizzazione del progetto su tutti gli aspetti da quelli naturalmente più strettamente legati alle infrastrutture vere e proprie a quelli della comunicazione la comunicazione è stata affidata perché c'è stata una divisione dei compiti fra i diversi parchi al parco nazionale del Pollino che ha seguito e segue tutto il piano di comunicazione della ciclovia dei parchi ed è stato il committente colui che ha fatto richiesta a me per la progettazione del piano di comunicazione ed il coordinamento di tutta l'attività di comunicazione che ancora seguo e seguiamo Scusami, è da un termine? Cioè nel senso è prevista una durata e poi va avanti da solo? Cioè come... No, diciamo che al momento l'idea è quella di avere sempre uno staff che si occupi della comunicazione e quindi in progetto c'è di dare comunque continuità perché al di là della... questo è un aspetto importante al di là dei contenuti che vengono divulgati e creati quotidianamente c'è anche un aspetto informativo che questo staff risolve cioè che è quello di dare una prima informazione a chi scrive sul portale alla mail info che come sai è una cosa molto importante perché se decade questo primo contatto con l'informazione c'è una disaffezione e si perde diciamo un elemento di... di proprio di reputazione estremamente importante Grazie Grazie mille Prego E attualmente da quante persone è composto lo staff di comunicazione del progetto? Allora siamo in cinque c'è un responsabile del parco ci sono io ed altre tre persone che si occupano quotidianamente della comunicazione sociale Ecco quindi dietro c'è un team piuttosto articolato e magari ognuno sì perché immagino che poi bisogna essere anche esperti conoscitori dei luoghi quindi per poter descrivere i parchi quindi bisogna avere quindi nel caso in cui si metta su una rete Sì questo è fondamentale come diceva come diceva Francesca Borgi per il Museo degli Uffizi Non ti sento Scusami mi sono fermata perché forse ti ho interrotto No 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 sentivo un problema ok ok quindi dicevamo chiaramente bisogna essere esperti conosciuti dei luoghi e quindi immagino che in un progetto in cui ci sia una rete chiaramente almeno un esperto per ogni parco come mi pare di capire in questo progetto ci debba essere chiaramente poi a maggior ragione insomma esperto di comunicazione Sì c'è sempre una interconnessione ciascun parco ha indicato un suo referente e questo team è sempre in contatto con i referenti non solo ma questo per dare un elemento anche conoscitivo a chi vuole avere un approccio corretto alla gestione della comunicazione social io personalmente che sono una persona che ha scritto il piano di comunicazione ho percorso tutta la ciclovia in bicicletta ma questo perché diventa fondamentale come diceva Francesca Sborgi avere consapevolezza di tutto ciò di cui ci si appresta a raccontare questo è un aspetto importantissimo anche per essere più credibili agli occhi del proprio target sì insomma conoscere appieno l'esperienza chiaramente aiuta poi nel trasferire nel comunicare i contenuti del progetto quello che tu dici è importantissimo la credibilità della comunicazione hai toccato un aspetto che è estremamente importante la comunicazione per essere credibile deve essere vera deve essere quanto mai veritiera questo deve essere sentita chiaramente quindi va partecipata nella sua più profonda essenza altrimenti diventa un qualcosa di mi avviso di astratto di astratto sì misterile ma questo lo dimostra il team degli uffizi è dentro il museo non lavora da un luogo separato o appartato quella è un'esperienza che la dice lunga su come si può raccontare una storia probabilmente mancano dei percorsi formativi adeguati diciamo per poter rincrociare il mondo della comunicazione con il mondo del patrimonio culturale o del turismo cioè immagino che appunto man mano che queste nuove tecnologie e questi queste nuove tecnologie applicate alla comunicazione si si diffonderanno si svilupperanno chiaramente è ospitabile che nascano anche dei nuovi percorsi formativi orientati al discorso della comunicazione sì questo è molto importante è assolutamente decisivo ma lo è anche se vuoi da un punto di vista politico nella migliore accezione di questo termine nel senso che le politiche vanno anche indirizzate in questo senso cioè bisogna dare il giusto rilievo a questa attività comunicativa e questo è anche molto importante adesso per fare un ultimo esempio legato alla ciclovia dei parchi della Calabria che attraversa tutte le aree interne della regione quindi parliamo di una infrastruttura che va a modificare il destino proprio delle aree più in difficoltà ed è un esempio tangibile di come un'idea di questo tipo possa effettivamente cambiare il destino dei luoghi perché sono due anni che nascono nuove strutture per l'ospitalità in paesi dove si era di fronte da tempo a un progressivo spopolamento vengono turisti da tutta Europa questa è credo poi l'esperienza più bella che si possa vivere quando un piano di comunicazione un'attività di comunicazione integrati ad un progetto di infrastruttura turistica riescono a portare in tempi anche relativamente brevi già risultati tangibili penso che sia la cosa più bella che possa accadere mi è venuto in mente adesso proprio perché hai parlato di turismo europeo quali sono le lingue insomma su cui puntare c'è sempre una parte in lingua inglese immagino sì oppure sono previste anche delle altre possibilità per i turisti diciamo non anglofoni oppure si punta sull'inglese come come vi siete mossi o come si sono mossi di solito gli enti che fanno questa comunicazione che non è destinata solo agli italiani naturalmente la scelta delle lingue è stata riferita ai potenziali target e quindi abbiamo un sito in cinque lingue italiano tedesco inglese francese e spagnolo la comunicazione social invece avviene in italiano e in inglese perché dipende anche dal tipo di turismo immagino che questo turismo sia molto versatile per esempio in nord Europa oppure nella span dove è più presente e quindi c'è bisogno di lingue diverse esatto ma anche le azioni di digital advertising sono state fatte su canali in lingua per esempio Komoot che è un canale specifico che comunica proprio soprattutto in lingua tedesca che era la lingua per noi preferita soprattutto come il per il nostro maggior bacino di utenza che era quello compreso fra Svizzera Germania e Austria che sono quelli più avvezzi a questo tipo di esatto di esperienze grazie mille nulla grazie a voi per l'opportunità ne approfitto per ringraziarvi nel dover definire queste slide ho fatto anche un po' di approfondimento utile anche a me stessa di operazione di sintesi che è sempre utile fare grazie è stato molto interessante insomma la rassegna insomma dei casi che ci hai mostrato insomma sì più che altro perché ci ha ci ha fatto vedere da una prospettiva diversa degli aspetti della comunicazione che chiaramente sono fondamentali i fini della promozione di un qualsiasi qualsiasi di risorsa che sia di tipo naturalistica o culturale per cui ho apprezzato tantissimo i contenuti di questa presentazione grazie grazie io non ho ringraziato la traduttrice la ringrazio moltissimo mi scuso se qualche volta ho corso un po' di più grazie